Buongiorno a tutti, buongiorno grazie per essere venuti, è per me un onore, il mio nome è Lorenzo Fioromonti, sono il viceministro al MIUR ed è per me un onore poter presiedere questa conferenza, che tocca un tema che mi sta molto a cuore, non soltanto nel ruolo che occupo oggi, ma anche in virtù dell'attività di ricerca che ho svolto negli ultimi anni, e cioè come le nuove tecnologie possono aiutare non soltanto a migliorare l'atteggiamento, le funzioni della pubblica amministrazione, in questo caso in particolar modo del mondo universitario e del mondo della ricerca, ma possono anche essere un veicolo di ottimizzazione della qualità della vita delle persone, perché qui si uniscono questi due mondi, cioè non soltanto l'amministrazione entra ufficialmente nel ventunesimo secolo, ma con delle tecnologie estremamente intelligenti che rendono la vita, in questo caso degli studenti, dei ricercatori, molto più semplice. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della presentazione di un progetto che prevede, organizzato dal Cimea e i tecnici ve ne parleranno in maniera più dettagliata dopo la mia introduzione, che prevede la possibilità, già in Italia, uno dei paesi leader del European Qualifications Password for Refugees, di utilizzare una tecnologia che voi già conoscete, basata sulla blockchain, quindi su un sistema orizzontale di certificazione, in questo caso dei titoli di studio, per fare in modo che tutti ovviamente, ma in particolar modo coloro che non hanno la possibilità di ricostruire in maniera lineare il proprio percorso di formazione, queste competenze le vengano riconosciute non soltanto in Italia, ma una volta che sono riconosciute in Italia, siano valide in automatico per tutti i paesi che sono all'interno di questa rete, di questo consorzio. Questo è fondamentale per coloro che oggi vengono in Italia come rifugiati, che in molti casi hanno delle competenze significative. Molto spesso il dibattito italiano si fossilizza sul problema dell'immigrazione, sul fenomeno dei rifugiati come se fosse una minaccia. Io invece lo ritengo non solo ovviamente una sfida, sia per chi parte che per chi riceve, ma anche una grande possibilità di crescita e di sviluppo intelligente del nostro paese. Oggi arrivano in Italia tantissime persone, spesso i giornali non ne parlano, che hanno delle grandi capacità, delle grandi conoscenze, spesso sottoutilizzate. E noi sappiamo che in gran parte del mondo in realtà lo sviluppo sostenibile, la capacità di investire sul capitale umano è ciò che fa la differenza tra un'economia che funziona e un'economia che non funziona. E quindi noi abbiamo non soltanto l'obbligo morale, ma anche dobbiamo avere la capacità intellettiva ed innovativa di sapere utilizzare al meglio le competenze che vengono nel nostro paese. E quindi cosa accade? Accade che oggi il Cimea è nelle condizioni di poter ricostruire il percorso formativo di un rifugiato, inserirlo all'interno di una rete che diventa non solo comune, ma che diventa un portafogli nelle mani della persona stessa. E quindi questo sarà allargato, viene già allargato a tutti gli studenti, non soltanto ai rifugiati, ma in particolar modo per i rifugiati ha un'importanza specifica, per l'incapacità, come ho detto, di ricostruire in maniera lineare il percorso formativo. E a quel punto queste persone non solo sono in grado di far valere la propria formazione e dire io so fare queste cose, oggi c'è qualcuno che me lo certifica, ma quando si muovono, si spostano nel nostro paese o anche fuori dal nostro paese, come vi racconterà un nostro studente che sta facendo l'Erasmus ora a Barcellona, sono nelle condizioni di poter far valere il proprio percorso formativo, la propria certificazione e non avere quei problemi che per esempio ho avuto io quando ero un giovane studente, che andava in giro per il mondo, continuamente mi dovevo portare appresso tutte le certificazioni, dovevo andare da un traduttore che mi traduceva, che metteva il timbro e che poi andava nella Qualifications Authority del paese ospite e dopo qualche mese, se non qualche anno, mi veniva riconosciuto il valore dei miei titoli di studio, questo non solo mi bloccava la mia capacità di fare nel mio caso ricerca, ma allungava i tempi e anche diminuiva la capacità del paese ospite di utilizzare le competenze che io mettevo a disposizione. Ecco, questo sta cambiando, la tecnologia blockchain che come ha detto anche il Ministro Di Maio la settimana scorsa, eravamo in Europa insieme, è la tecnologia del futuro, una delle tecnologie con la più ampia gamma di applicazioni, nasce nel mondo della finanza online, delle criptovalute, ma oggi viene diffusa sempre di più nelle pubbliche amministrazioni intelligenti, nelle attività di impresa, dicono in genere, non so se lo sapete, che quando un'impresa oggi mette blockchain nel proprio testo, nella propria posta e si viene in borsa e si presenta in borsa e riesce ad avere i capitali maggiori rispetto a qualunque altro tipo di attività, è una cosa che va anche molto di moda sicuramente e c'è tanta, come dire, una sorta di attenzione mediatica molto trasversale, però nel contesto della pubblica amministrazione, in particolar modo nel contesto dell'istruzione e della ricerca, può avere delle applicazioni significativamente rivoluzionarie. Noi oggi presentiamo questa realtà a tutti voi, che ha il doppio valore, come ho detto, non soltanto di rendere il sistema più intelligente, trasparente, mettere nelle condizioni lo studente e l'utente di controllare la propria formazione, perché ogni studente ha un wallet che poi è spendibile online, tutto il sistema diventa un sistema di cloud in cui non è più necessario portarsi il curriculum presso ogni volta che si va, come avere una chiavetta in cui c'è tutta la tua storia e questa chiavetta è certificata da tutti gli enti che fanno parte del network, ma è anche importante per ottimizzare le capacità, le skills di chi viene in questo paese con la voglia di lavorare e fare bene e di chi da questo paese va altrove con la voglia di fare bene e continuare a lavorare nel proprio settore. Io con questo chiudo e offro, cedo la parola al direttore del Cimea, Luca Lantero. Buongiorno a tutti, grazie Vice Ministro, grazie a tutti i presenti. Mi chiamo Luca Lantero, di Rigol Cimea, centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche e oggi vi parlerò di due aspetti innovativi per i quali l'Italia è leader in ambito internazionale. Il primo tratta della valutazione e riconoscimento dei titoli di studio senza documentazione o senza adeguata documentazione, che ovviamente è una parte molto innovativa e metodologicamente della valutazione dei titoli. Pensate a chi non può produrre documenti, come è possibile valutare i titoli che ha acquisito. E la seconda appunto è tutta la tecnologia blockchain applicata a questo settore. Partiamo però da una esigenza di strumenti. Sappiamo che nell'ultimo comunicato dei ministri dell'istruzione superiore a Parigi si è fortemente voluto una parte dedicata alla digitalizzazione. Oggi i processi di digitalizzazione sono fondamentali. Io devo sapere in maniera molto veloce se un'università, un'istituzione mi prenderà un certo corso. Perché? Perché c'è competitività, perché abbiamo bisogno di genuine student, perché vogliamo gli studenti migliori e quindi fare aspettare tre mesi per siti di RAW, semiporti, legalizzazione, certificazioni, timbri e traduzioni oggi è una problematica molto seria, tenendo presente che con i dati statistici dell'UNESCO un terzo della popolazione nel 2050 arriverà dal continente africano e la domanda di ingresso all'AER Education, alla formazione superiore, sarà più 140% nelle altre regioni del mondo e in Europa ci settiamo al 36%. Significa che da qui a dieci anni per sopravvivere le nostre istituzioni, come stanno già facendo, dovranno attrarre studenti da fuori Europa, con tutte le complicazioni del caso. Troviamo anche una raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea, dove esplicitamente parla nell'ambito di Education, di esplorare la tecnologia blockchain. E poi abbiamo un articolo, l'articolo settimo della Convenzione di Lisbona, che è l'unico strumento internazionale sul riconoscimento dei titoli, che è ratificato tramite la legge 148 del 2002, dove viene detto esplicitamente che ogni paese firmatario deve trovare delle soluzioni al fine di riconoscere o valutare i titoli di rifugiati o titolari di protezione internazionale anche in assenza di documentazione. Tenete presente che un altro punto che non si conosce nella normativa è questo articolo, il 3bis del decreto legislativo numero 18 del 21 febbraio 2014, dove viene detto che anche in assenza di certificazione ogni pubblica amministrazione italiana deve giungere alla valutazione dei titoli in possesso di rifugiati. Tenete presente il fatto di scuola, regioni, riconoscimento professionale per professioni regolate, università e appunto l'ambito universitario è il più avanzato da questo punto di vista, con le soluzioni che vi farò vedere. Nella procedura di matricolazione prodotta dal MIUR ovviamente si invitano le università a porre in essere tutte le procedure e meccanismi per la valutazione di tali titoli in possesso di titolare di protezione internazionale. Gli attori ovviamente in questo caso sono il MIUR, la conferenza dei rettori, le singole istituzioni, il CML pubblica amministrazione. Noi vogliamo come dire come mission del CIMEA ma anche come strategia di paese attrarre studenti di qualità, i cosiddetti genuine students, cioè ci interessa attrarre studenti che abbiano le capacità non solo di entrare in un corso ma di portarlo a termine. Il secondo punto è che dobbiamo valutare in una maniera chiara, trasparente e automatica. Significa con meno dispendio di, da parte dello studente, tempo e anche denaro nella produzione di documenti e quindi arrivare a una valorizzazione e un riconoscimento immediato e automatico delle qualifiche. E tenendo presente che dobbiamo anche combattere il fenomeno delle falsificazioni, che oggi si aggira come documenti accademici intorno al 3%. Ci sono il 3% di documenti accademici che vengono presentati alle università che sono falsi o falsificati. Parliamo non solo di il titolo finale, che può essere vero, ma di contraffazione di un voto, contraffazione di una lettera di presentazione del docente, eccetera. Come valutazione di titoli di rifugiati il CIME ha iniziato nel 2016 come uno dei primi centri a svolgere una metodologia di valutazione senza produzione di documenti, che poi vi spiegherò, con 85 attestati rilasciati nel 2016, 89 2017 e 63 attestati nel 2018. Con questi attestati le persone sono andate direttamente all'università e si sono iscritte. Tenete presente che la metodologia è oggettiva, significa che noi abbiamo ricevuto, ad esempio nel 2018, non 63 richieste, abbiamo ricevuto 150 richieste, ma siccome la metodologia è simpatetica a una situazione, una persona è titolare di protezione internazionale e non ha i documenti, ma è oggettiva, non tutti hanno i titoli per fare l'università, come succede con gli altri paesi, con gli altri studenti. Quindi abbiamo rifiutato una parte di studenti che non avevano i titoli adeguati per l'ingresso ai nostri corsi. Qui trovate i paesi di riferimento rispetto ai titoli valutati e abbiamo anche un esempio dell'European Qualification Passport for Refugee. L'Italia è stato il primo paese insieme due anni fa a Norvegia e Regno Unito ad essere chiamato dal Consiglio d'Europa per il rilascio di questo passport per i titoli dei rifugiati, con un panel internazionale che andava a fare interviste e verificava direttamente le qualifiche e le competenze dei rifugiati. Tenete presente che quest'anno è partita la sperimentazione del pass in Italia, abbiamo iniziato a avere il primo round di interviste a Cagliari e Sassari a luglio, andremo adesso tra Torino e Milano con gli atenei di quelle città a novembre e poi avremo un altro round che sono ancora da decidere in centro-sud o nord-est per la valutazione di titoli di rifugiati. La metodologia valutativa ovviamente si basa sempre su qualcosa di oggettivo, se prima ci basiamo su dei documenti, adesso ci basiamo su dichiarazioni, possono essere dal rifugiato e competenze. In realtà valutiamo sempre qualcosa. La metodologia è molto semplice, abbiamo sviluppato un questionario molto complesso che diamo al ragazzo e al rifugiato dove deve ricostruire il background scolastico e universitario. Noi chiediamo ai nostri valutatori di farlo, io l'ho fatto, mi sono laureato nel 2004, ho provato e ovviamente non mi ricordo tutti i nomi dei miei professori, tutti i nomi dei libri di testo, ma non è un problema, anzi è importante che lo faccia in autonomia perché anche gli errori o cosa penso di sapere sul sistema può essere interessante. Tenete presente che chi è scolarizzato, chi ha fatto l'università in un certo paese lo si capisce. Ci sono degli elementi molto chiari, noi abbiamo contatti con tutti i ministeri al mondo, anche nei paesi dove i ministeri che si occupano di istruzioni superiori sono diversi, a seconda di provincia o regione, e in questo modo riusciamo a ottenere le informazioni vere. Vi faccio un esempio molto semplice, se chiedessero a un mio compagno di corso che una certa notizia sulla mia università o un certo giudizio, come dire, e io dovessi valutarlo, capirei immediatamente che cosa, lo statino ad esempio, che cos'è lo statino? La normativa non parla dello statino, ma chi ha fatto l'università conosce bene questo termine in Italia. Ci sono termini o degli elementi in tutti i paesi, elementi che sono così ovunque, quindi quando noi valutiamo il questionario scritto dallo studente, capiamo se veramente ha frequentato o meno quella istituzione. Il questionario ha domande sia di materie, ma anche domande molto pratiche, eravate divisi tra uomini e donne, avevate delle divise, quale erano gli orari, hai fatto delle esperienze all'estero e tenete presente che la documentazione aggiuntiva è molta in questo caso, magari io non ho il titolo di studio, ma ho la mia student card, ho pagato delle tasse e posso provarlo, ho delle foto sui miei profili social, eccetera, eccetera. Quindi da un certo punto di vista riusciamo a risalire in maniera oggettiva agli studi. Poi ci sono degli esperti che intervistano insieme all'università, intervistano i candidati e si prepara ovviamente l'intervista e si decide di rilasciare il passo accademico. Si decide con il criterio di ogni oltre ragionevole dubbi, ovvero abbiamo dei dubbi ragionevoli che questa persona sta dicendo il falso oppure non abbiamo dubbi su questo perché tutti gli elementi concordano e anche le competenze e conoscenze concordano al fatto che questa persona sia scolarizzata. Ci sono degli elementi ad esempio della fisica che se uno ha studiato fisica deve conoscere come formula e regole. Gli effetti ovviamente del rilascio di questo passport sono molteplici, quello principale è poter entrare a un corso di studi direttamente in Italia e questo è il principale elemento per cui viene rilasciato il passport. Può esserci un'abbreviazione di corso, possono esserci anche altre possibilità. Passiamo velocemente a blockchain, il Cimea ha inventato il servizio diplomi, ovvero il mio diploma, lanciando questa campagna blockchain for people, utilizzando il blockchain come tecnologia dedicata alla persona. Che cos'è questo diplomi? È un portafoglio personale, quindi siamo GDPR compliant, quindi non abbiamo problematiche di privacy perché il padrone dei dati sono io, dove io posso caricare tutte le mie qualifiche, anche già ottenute, in una maniera sicura e posso dare gli accessi e i permessi di vederle come portabilità rispetto agli altri, ad attori di lavoro, ad altre università dove voglio iscrivermi. Lo strumento è in grado di avere una portabilità delle qualifiche, siamo i primi ad oggi ad utilizzare questo strumento e la blockchain in ambito di valutazione di titoli perché affidiamo ad ogni qualifica un livello internazionale secondo dei parametri che possono essere l'European Qualification Framework, l'ESHED o altri parametri internazionali, così le qualifica è chiaramente identificabile se si tratta di titolo finale di scuola secondaria, qualifica di primo, secondo, terzo ciclo e quindi è riconoscibile, più facilmente riconoscibile. Ovviamente la blockchain è interessantissima per un punto, pone un dato immodificabile, immutabile su internet, online. Questo dato non sarà più mutabile e nel nostro settore è fondamentale per evitare le frodi o i titoli fasuli. Voi pensate, uno studente che debba mettere il proprio titolo e pensare che quel titolo se lo mette come falso sarà riconosciuto come falso sempre. Crea una fiducia nello strumento molto interessante. Oppure un'istituzione che rilascia un titolo, come è capitato, lo sapete molto bene, sulla base di corruzione e quindi si scopre poi che questo titolo è annullabile. Questo è un punto molto interessante. È vero che il dato è immutabile, non vuol dire che il dato sulla blockchain sia vero. La certificazione è data dall'ente certificatore che pone il dato, l'università, o dallo studente stesso che poi se lo fa certificare, ad esempio dal MIUR o da un altro Ateneo. Se un dato è immodificabile non vuol dire che adesso non possa essere ragganciato un altro dato, ad esempio Luca Lantero prende un titolo rilasciato sotto frode da un'università riconosciuta, glielo viene dato, viene scoperto dopo 8 anni che questo titolo era falso e si metterà un altro dato immodificabile, qual titolo ottenuto era falso. Quindi risolviamo anche questa problematica. Si può applicare a tutti i settori specifici di riferimento per noi, ad esempio la direttiva sulla libera circolazione dei professionisti, pensate nel conoscimento degli insegnanti, degli ingegneri, degli avvocati, dei medici, tutte le dichiarazioni che dovete fare. Se viene posto direttamente dall'ente certificatore la professional license, non abbiamo più problemi di verifica di questo. Ovviamente abbiamo una interoperabilità del sistema, poi il rappresentante di Agile, Pietro ci spiegherà molto meglio questa parte, la sicurezza delle informazioni che sono immutabili, il fatto che io avrò una ovviamente minimizzazione dei costi e anche del time consuming è un ecosistema molto molto diciamo un ecosistema che si creerà rispetto ai titoli. Concludo ricordandovi che il sistema è pienamente conforto al GDPR, ha il diritto all'oblio perché daremo delle password, se tu perdi la password i tuoi dati sono cancellati, nessuno potrà più accedervi ed è basato assolutamente su un trust molto molto interessante perché se il dato è immutabile mettere un falso mi condannerà a vita. Concludo e vi ringrazio. Grazie, grazie mille Luca per questa presentazione. Passo la parola al dottor Pietro Marchionni dell'Agit, l'Agenzia per l'Italia digitale della Presidenza. Grazie. Buongiorno a tutti. Come sapete l'Agenzia di Italia digitale ha un ruolo importante per la digitazione pubblica e amministrazione e per questo che noi abbiamo supportato Cimea e il MIUR in questo percorso ed è molto importante e lo vedrete un po' anche dai titoli della presentazione che questo percorso non è solo italiano ma internazionale. Ho appositamente usato lo stesso framework della presentazione che abbiamo usato all'Ox e alla Comunità Europea per far capire che la blockchain è un sistema aperto distribuito, non parliamo solo di Italia, ha un'estensione che è mondiale e quindi è molto importante sia vedere il modello italiano ma che questo sia integrato all'idea europeo e a livello internazionale in sistemi analoghi in modo che faciliti il percorso che il viceministro diceva prima e io ho sperimentato allo stesso modo quando sono andato all'estero nel momento in cui una persona ha bisogno di riconoscimento i propri titoli studio. Dove ci troviamo? Io ho cercato di fare una presentazione semplice ma abbastanza legata all'ecosistema Italia. Sapete che l'Italia ha un piano trennale che guida sotto certi punti di vista la digitalizzazione pubblica e amministrazione e il percorso che è stato fatto dal MIUR e da Cimea è esattamente congruo e all'interno è il piano trennale perché nella stratificazione che vedete sul lato sinistro dove ci sono tutti i livelli che noi prevediamo per la digitalizzazione noi stiamo parlando di ecosistemi. Dentro questi ecosistemi ce ne sono molti, non li ho lencai tutti, sarebbero in quel piccolo quadratino giallo però quelli che noi abbiamo portato per esempio all'Ocse e alla comunità europea sono quelli che abbiamo visto a destra e il più avanzato è quello che è stato sviluppato qui dal MIUR e da Cimea ed è stato riconosciuto anche a livello internazionale per questo. Quindi non stiamo creando in questo contesto un silos ma stiamo creando un sistema che è completamente congruo con quello che è il percorso di digitalizzazione della nostra nazione. Un po' di testo. Come si esprime la nostra azione? Perché Agile deve supportare questo. A livello italiano noi supportiamo come vedete la sperimentazione delle tecnologie, la blockchain come diceva il Vice Ministro anche dall'Onorevole Di Maio è stata evidenziata come una tecnologia fondanti e il compito di Agile è accompagnare le amministrazioni in questo percorso, sempre nel concetto di ecosistemi. Secondo, a livello internazionale, l'Agile fa questo perché l'Europa anche sta seguendo lo stesso percorso. Considerate che la problematica che voi vedete non è solo quando andiamo all'estero pensato come dall'altra parte del mondo ma anche in Svizzera, in Francia, proprio vicini e loro hanno lo stesso problema quando vengono in Italia. Quindi tutte le nazioni europee sentono fortemente la problematica che è stata elencata. Ma questo non può andare, come al solito, in maniera disgiunta dalla normazione. Ci sono enti di normazioni, in Europa c'è il CENCENELEC e internazionalmente c'è ISO o ITU. Questi enti di cui noi facciamo parte e abbiamo la nostra rappresentanza stanno lavorando alacremente a normare, e questo è un po' un controsenso della blockchain, non si normano le tecnologie ma si norma l'uso della tecnologia naturalmente, normare l'uso della tecnologia in modo che questa tecnologia sia veramente, dia il vantaggio che prevede. guardate, è strano, non è ancora definito cosa vuol dire blockchain. Se noi andiamo a chiedere a dieci persone la penso in dieci modi diversi. Quindi uno dei lavori più grandi di ISO è dire, terminologia, cos'è la blockchain? Cosa sono gli smart contracts? Sembra una cosa banale ma è una cosa complessa perché noi dobbiamo parlare tutti la stessa lingua quando facciamo le cose, altrimenti andiamo in direzioni diverse. Lavoriamo così e Agid sta creando insieme alla normazione europea un documento in cui lo use case del MIUR è stato posto e verrà portato a livello internazionale che definisce cosa l'Europa pensa sulla blockchain e dove l'Europa vede come normazione che questa tecnologia possa essere più adattabile o adatta o adattata perché è una tecnologia, è un errore tecnico dire che è un database ma è come se fosse un database, non posso dire non confondiamo la blockchain con il bitcoin, è un database, mettiamola così per semplicità, quindi non posso normare un database però ne normo l'uso e quindi noi dobbiamo normale standardizzarlo. Ora dove abbiamo portato il servizio diplomi? Lo abbiamo portato sia alla European Blockchain Partnership che è stata grazie al cielo, l'Italia era l'unica nazione che era fuori e questa mancanza è stata compensata dall'onorevole Di Maio ed è il primo use case ufficialmente approvato da Partnership e in questo use case non ci sta solo l'Italia, ci stanno molti nazioni europee e se ne stanno aggiungendo altre perché tutte sono interessate a questa problematica e quindi stiamo parlando di una problematica che è sentita così tanto che questo use case è stato messo anche in maniera antecedente all'us case sull'identificazione delle persone, che è il self-saurant identity, quindi è una cosa critica per l'Europa perché come dicevamo c'è una carenza di passaggio, di trasformazione di movimento dei nostri giovani all'interno dell'Europa che è quello che fa l'Europa unita. L'Europa non si unisce solo con le leggi, si unisce con il fatto che i giovani vanno in giro, scoprono, capiscono e tornano a casa e portano il bagaglio culturale che hanno portato con loro. Ma noi non siamo solo in Europa, siamo anche a livello extraeuropeo, con i nostri colleghi siamo andati all'Ocse, abbiamo presentato quello che l'Italia vuole fare e Diplomi è stato uno degli use case che hanno riscontrato più interesse. Quindi a maggio lo presenteremo allo standard di internazionazione ISO, di standardizzazione, e il 21 maggio sarà presentato insieme a rappresentate la Commissione europea. Quindi non sarà solo l'Italia che porta, sarà l'Europa che porterà questo use case a livello internazionale. Ora, le vediamo un po' più tecnicamente le caratteristiche chiave. Naturalmente siamo in Europa, se non pensiamo a GDPR non andiamo da nessuna parte, quindi è molto importante utilizzare tecnologie che ci permettono rispettare questo requirement che ci protegge. Non è un obbligo, non è un vincolo, non è un peso, è una protezione per tutti noi. Quindi supportiamola. Ci sono tecnologie molto avanzate che ci permettono di proteggere i dati in maniera sicura. qua ne ho elencata una che si chiama 0 knowledge proof. Questa tecnologia permette di conoscere il contenuto di un dato senza conoscere il dato. È incredibile. È come se io potessi su tutto il profilo personale a persona chiedere solo la data di nascita e non vedere altro, accedendo comunque a tutto il blocco dei dati. E questo è una cosa molto importante nel momento in cui io voglio far vedere un mio certificato ma non voglio far vedere altri certificati perché non interessano all'ente con cui io sto avendo a che fare. Poi ci deve essere, come abbiamo già detto, la garanzia del dato. È molto importante che il dato sia immutabile, anche se immutabile è un termine pericoloso, però è immutabile, quindi sicuro e nella sua immutabilità è sicuro anche nel caso in cui sia falsificato. È molto importante il controllo della sua condivisione. Anche il GDPR dice io voglio condividere i miei dati e voglio sapere che li condivido, con chi li condivido e quando li condivido. E non voglio che la persona che utilizza quel dato la utilizzi senza il mio permesso. La blockchain ci aiuta tantissimo in questo, perché ogni accesso può essere controllato in maniera, anche l'accesso in maniera mutabile. Quindi stiamo avanzando anche di un gradino. L'interoperabilità che in Italia è molto importante perché tendenzialmente abbiamo costruito per anni silos di tecnologie. E quindi ecco la prima slide. Questo deve essere interoperabile, è un sistema che parla con tutti, aperto e che può parlare sia in Italia con chiunque ne abbia bisogno, perché l'Europa ci dice anche che c'è un principio once only. Io sono andato poco tempo fa a rinnovare il passaporto, mi hanno chiesto la fotocopia del mio passaporto. E mi chiedo, ma se voi emettete il passaporto, perché mi chiedete la copia di un documento che voi emettete? Il principio once only dice se tu hai emesso un documento pubblico non me lo devi richiedere, chiunque. Quindi questa tecnologia ci potrà permettere di dire nel campo della certificazione e studi, ho emesso questo certificato, sta lì, prenditelo. Qualsiasi amministrazione, anche pubblica, potrà usarlo. E quindi questi principi facilitano, come potete capire immediatamente, la vita del cittadino. Quindi non stiamo facendo un lavoro come a volte si fa per fare un pacchettino con un fiocco molto carino. No, stiamo facendo qualcosa che serve a tutti noi e ai nostri figli per semplificare la vita. Quindi, c'è, ne abbiamo parlato, vi do due screenshot sul servizio. Come vedete in alto a sinistra c'è una home page dove c'è il mio wallet. Questo wallet un po' ricorda wallets esistenti. È sbagliato a chiamarlo wallet, ma ormai è un termine che usano tutti. Però, se noi pensiamo wallet con il nostro portafoglio, dentro c'è il nostro documento di identità. Magari abbiamo la nostra patente. Quindi è veramente un luogo dove io ottengo i miei documenti. Non è un wallet dove tengo moneta. Posso tenerci anche moneta volendo, ma non è questo tipo di wallet che stiamo facendo. Quindi è il mio wallet dove tengo i miei documenti. Queste sono le mie chiavi di accesso. Come diceva Luca, il principio del GDPR che ci dice che io posso far dimenticare i miei dati, mi perdo la chiave e il dato non è più accessibile a nessuno. Quindi, volendo, io posso fare dimenticare completamente i miei dati. A destra abbiamo un esempio della forma che imputerà i dati per la comparabilità. È molto semplice. Tutti i dati che sono già stati inseriti non verranno mai chiesti anche qua due volte e il sistema deve dare con massimo tre clic la possibilità all'utente di richiedere qualsiasi servizio e ottenere informazioni. Poi, nel processo di sviluppo, faremo un design un po' più accattivante. In questo momento è molto tecnico, quindi scusateci per la parte semplicistica, però vi dà un buon sneak peek, come si dice ogni tanto in inglese, a quello che arriverà tra poco. E siamo i primi. Considerate che all'ielo europeo la pianificazione che è stata messa è a fine 2019 la prima release. Io penso che a fine 2018 abbiamo una release che possiamo lanciare. Siamo un anno avanti anche all'Europa. Dobbiamo congratularci con il Ministero e con Luca perché hanno fatto un ottimo lavoro. Grazie. La ringrazio tantissimo per questa presentazione, anche perché io non ho ancora visto lo sneak peek e quindi è molto molto interessante. Ed ora passiamo dai tecnicismi all'esperienza vissuta. Quindi è per me un piacere passare la parola ad un giovane studente che è italiano, registrato in Italia, che ora sta facendo l'Erasmus a Barcellona, Bacari Coulibaly, detto Bubba, che ho avuto modo di conoscere stamattina. Viene dal Mali e io ho avuto la fortuna di visitare il Mali. Ho avuto anche la fortuna di visitare la biblioteca di Timbuktu prima che venisse distrutta dalla guerra. Sono molto legato a questo paese, non soltanto per ragioni culturali, anche perché mia moglie ci ha vissuto tre anni, parla correntemente a Songrai, che è un dialetto del nord del Mali. Quindi c'è un legame molto forte nei confronti di questi paesi che spesso conosciamo poco ma che offrono tantissimo, non solo dal punto di vista culturale, ma anche umano, antropologico ed innovazione. Un grandissimo festival musicale internazionale che avviene in Mali tutti gli anni. La parola a te. Buongiorno a tutti. Prima di tutto è un onore di essere presenti oggi tra di voi, veramente. Vi ringrazio per questo. Come ha detto il Signore Ministro, mi chiamo Bacari Coulibaly, ma comunque è un po' difficile. Tutti gli amici mi chiamano Bubba. Sono umaliano e sono arrivato qua in Italia nel 2015. Ma prima di tutto dobbiamo capire due cose, due termini. Perché spostare e scappare. Se uno si sposta è preparato, si può portare tutto quello che vuole, documenti. Ma se uno si scappa, l'unica cosa che può portare è la sua competenza. Noi rifugiati abbiamo corso quella difficoltà. Poi vi racconterò certamente, posso dire, la mia utopia che sto realizzando qua in Italia. Vi ringrazio molto per questo l'Italia. Quando noi partiamo, scappa e non sappiamo, non sappiamo dove arriveranno. Come ha detto il Signore Ministro, una parola molto importante. L'unica cosa è la riconcessione lineare. Dove arrivano noi e da lì che noi dobbiamo iniziare a fare una riconcessione lineare, didattico, anche identitario. Perché si è scappato. Anche molti di noi non hanno una famiglia dietro che ti possono aiutare a fare arrivare certi documenti, certe cose qua. Per questo la CMA è un'organizzazione molto importante per questo fatto che ti possa aiutare a riconoscere questa linea didattica. Vi racconterò un po' la mia propria esperienza nel 2015 quando siamo arrivati qua, senza niente, in Sardegna. Io comunque abito in Sardegna, a Dalguero. Per fortuna si vuole anche le persone giuste, questa solidarietà dei cittadini che è molto importante anche per noi, che con loro si può dare la fiducia. Io ho incontrato quella professoressa dell'Università di Sassari. Un compleanno, un suo compleanno, siamo stati invitati lì e siamo andati. Come fate sempre le domande più occidentali o europei, cosa vuole fare nella vita? Una domanda per noi è molto difficile a rispondere prima volta, perché noi uno scappa e arriva qua, è un'altra realità, cioè che tu ti immaginavo che non è così e ti chiedi cosa vuole fare, è un po' difficile la rispondere. Però io la mia prima risposta è se avrò la possibilità di almeno fare una master qua in Europa, in Italia, mi piacerebbe. È un sogno, un'etopia, perché sono già laureato nel mio paese, ma sai che questo c'è il mondo e il livello di istruzione non è simile qua. Se uno avrà l'opportunità di... scusa anche... E per questo vi dico che è un'etopia che io sto realizzando in realtà, perché da lì, dai mali, ho provato tutto per avere qualcosa legale, per venire qua in Europa, cioè fare quella master, ma la biocrazia non è facile affrontare, non c'è... e direttamente mi trovo qua senza voluto, perché c'è stato un problema che mi ha fatto scappare direttamente e mi sono trovato all'università che sognavo da tanti anni, che ho provato tutto, non c'è possibile. E' un'etopia che è veramente per me che sto... che è un sogno che sto realizzando. Ma... con quella... scusa, sì, perché a volte parlo un po' troppo, cioè... Deve essere un po'... Ok. Ho incontrato quella professoressa, mi ha chiesto la famosa domanda, io ho detto ah, ci avrà la possibilità di studiare, mi piacerebbe. E va bene, cioè abbiamo fatto contatti, c'è... 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 c'è la collaborazione ministeriale del ministero di interno per i rifugiati con la protezione... internazionale abbiamo fatto la domanda e ho vinto ma come fare a fare riconoscermi a iscrivermi all'università per questo la CEMIA che è un organo molto molto importante anche per voi per noi per me comunque il primo che ho fatto questo questionario in Sardegna prima non c'era come ha detto il direttore ci sono varie domande molto molto che ti chiedo tutto lezioni, professori mestieri molto 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 importante e l'abbiamo fatto è una cosa che mi ha rassicurato anche a me dopo quando ho fatto questa cosa ho detto va bene adesso mi trovo dentro una cosa legale sono sicuro di me cosa ho fatto delle mie competenze e loro saranno capire che veramente lui non ha questi documenti ma ha una competenza di andare all'università è una cosa molto importante grazie a voi all'Italia posso dire così adesso sono iscritto all'università in facoltà di architettura di Alghero faccio specialistica master internazionale in urbanistica e sono appena andato a Resmus a Barcellona quindi dieci giorni stavo a Barcellona e mi hanno contattato e se potevo venire e dire le mie esperienze ho detto perché no è importante perché voi prima che mi ha aiutato dove mi trovo grazie a quello che avete fatto voi e sono adesso in Erasmus a Barcellona è un piacere veramente sono un po' emozionale vi ringrazio e grazie a voi grazie grazie Buba merci Buba e ora abbiamo un collegamento video con un altro studente Abdel Feta Mohammed che è in Sicilia non è potuto non ha potuto raggiungerci di persona ma ci ha mandato un collegamento video possiamo andarlo mi chiamo Abdel Feta vengo da Medetrea vivo in Italia da 7 anni in Sicilia in Catania esattamente lavoro come mediatore culturale un giorno mi sono andato all'università di Catania per chiedere perché per me non era logico che io sono rifugiato vivo in Italia non posso portare i miei documenti e solo per questo motivo non posso avere la possibilità per studiare per me non mi è convicciato quindi sono andato all'università per dire io vorrei avere questa possibilità di studiare non sapevo niente del passo accademico e dopo loro mi dicono non si può fare niente è normale in tutto il mondo non si può fare niente chi non ha certificato ma dopo 6 mesi mi contattano mi raccontano di questa esperienza del passo accademico che per me era una notizia molto molto bella mi hanno chiamato mi hanno dato un appuntamento prima mi hanno mandato dei moduli da compilare erano dei moduli molto pesanti perché erano dei moduli in cui tu devi raccontare tutto il percorso sia l'istruzione sia quindi molto molto dettagliato devi spiegare fino a quel momento fino all'ultimo momento in cui tu hai fatto il diploma sei laureato comunque c'è tutto il percorso che tu devi spiegare dettagliamente e dopo ho mandato questo modo all'università che era il punto di incontro con le cimee perché non conoscevo le cimee ma l'università che faceva tutta questa cosa ho mandato all'università l'università ancora mi ha mandato un'email in cui mi invita a presentarmi per una certa data in cui ci saranno che arriveranno una commissione o un gruppo di delegati del cimee che arriverà all'università per incontrarmi per un colloquio in cui loro valutaranno il mio valutaranno quello che ho dichiarato sia scritto sia normalmente e mi hanno fatto questo colloquio qui mi hanno detto mi faranno sapere il risultato e dopo un po' di tempo mi hanno contattato quando mi hanno andato un'email e mi hanno detto ti diamo il pass per studiare è stata una bella notizia specialmente per i rifugiati si parla si inventano tanti strumenti di integrazione ma si lasciano le cose più importanti alle istituzioni per me il pass era un strumento molto forte che mi noteva già io ho fatto un percorso ma anche per altre persone che non hanno fatto il percorso questo poteva essere per forse un'integrazione per tanti ragazzi che già sono laureati sono studiati hanno studiato questo poteva portarli all'interno della società a poter rappresentarli in un modo molto dignitoso e un modo anche di rispetto per dire va bene tu sei così dimostra poi ti diamo noi la possibilità di dimostrare se sei in grado ora siamo in conclusione per me è una ragione d'orgoglio aver presentato questa iniziativa sono molto fiero del lavoro che ha fatto il nostro ministero il Cimeo ovviamente torno a quello che ho detto inizialmente è una questione di ottimizzare l'uso delle risorse che abbiamo sia quelle finanziarie tecnologiche che fare leva sulle grandi risorse umane che sono parte integrante della storia del nostro paese saranno sempre più significative nel futuro queste risorse possono venire da qualunque parte del mondo e come ho detto questo è il mio campo di studi le economie del futuro saranno quelle che sapranno fare meglio uso delle persone in passato si parlava di risorse naturali di risorse finanziarie il futuro sarà sempre di più legato alla qualità delle persone che vivono in un determinato paese mi dicono di sottolineare che la modulistica complicata è dettagliata è anche disponibile in quattro lingue in arabo inglese in francese ovviamente in italiano quindi c'è uno sforzo anche da quel punto di vista e ovviamente voglio fare quelli che sono i ringraziamenti di rito in conclusione quindi voglio cominciare ringraziando il ministero e ovviamente il mio team di collaboratori che ha aiutato a preparare questo evento voglio ringraziare la direzione generale per lo studente lo sviluppo e l'internazionalizzazione e ringraziare anche gli istituti e le reti universitari presenti in particolar modo il consiglio universitario nazionale la CRUI il CNSU cioè i nostri studenti voglio ringraziare il sottosegretario Giuliano che non so se è ancora in sala ma ha partecipato l'ho visto prima entrare con cui collaboriamo strettamente perché quello che poi si fa sull'università della ricerca può avere anche un impatto sulla scuola e ovviamente invito tutti quanti a riflettere non solo sull'importanza di questo progetto che ci vede in prima linea in Europa ma sull'applicazione di nuove tecnologie per migliorare le prestazioni della pubblica amministrazione e io lo dico sempre migliorare la qualità della vita delle persone io essendoci passato non sono scappato io mi sono spostato quindi i certificati ce li avevo però vi assicuro comunque non è una passeggiata andare a dimostrare in un altro paese la validità dei propri titoli dovete fare tradurre dover aspettare ti fanno delle domande quindi se esiste un sistema così intelligente così innovativo che garantisce all'individuo di possedere le proprie informazioni e giocarsela a livello internazionale è un passo in avanti non solo per i diritti delle persone per la loro dignità ma anche come ho detto per i paesi che li ricevono voglio anche ricordarvi il hashtag di questa giornata di questo progetto che è blockchain for people saremo in contatto con voi una volta che il progetto avrà le sue future implementazioni e vi ringrazio ancora per la presenza e vi auguro una buona giornata grazie grazie